Buon pomeriggio, buon ventole di pomeriggio, ormai usuale, abbiamo deciso di fare un'interpretazione di un pezzo storico che dovevamo fare tantissimo tempo fa insieme, non l'avevamo mai fatto anche a nessuno, era il nostro brucio, con la pazienza di Diego che ci ha supportato durante le serate, le prove a casa loro, siamo riusciti a tirare fuori qualcosa da questo pezzo, si spera. Ovviamente quale miglior linguaggio che sceglie il finlandese è un pezzo, no? Siamo anche trovati un fattore di equivocato, ora non è il mio caso perché non teneteci da una parte a un piedi mistico, a un piedi diversificato, o a un po' a un po' a un po'. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Sì. Grazie. Grazie. Sì. Grazie. Chissimi suốt. Sì. Sì. Grazie a tutti.